Amici facciamo finire il budget a zonji ok aspetta ok questa è un po' più incasinata come come battaglia ok ci riesci? ottima cosa tutto qui è l'ora di un'eruzione spettacolare via hello ma ah no ok no 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 quasi sempre sul sicuro quasi quasi il signor chai ha decimato il suo budget la lente chai qui 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 Dove sta l'impalato? Finiscilo! Oh, giusto! Questa è tutta colpa tua! No! Basta chiacchiere! Ora vediamo cos'hai su spettra! Ok, sicuramente Zanzo ha nascosto le informazioni su spettra Forse in un database protetto da password e... E' qui, proprio sul desktop Oh, ehm... Ok, quello furbo della famiglia lui, eh E non Macaron Regolazione degli stimoli mentali Vogliono controllare la mente, come pensavo Bene! No, male! E l'attivazione di spettra è stata approvata Questa è sicuramente la fine per il signor Chai Possiamo fermare tutto adesso? Da quello che vedo, solo con i passepartout di tutti i capi Stai dicendo che ci servono... Ci sono sei capi di partimento e sei passepartout Ne abbiamo già sconfitti due Ce ne restano ancora quattro Allora, cosa aspettiamo? Avanti il prossimo! Vai con la musica! Il disco è finito! Eh? Sappiamo tutto di spettra, Cain Non la passerai liscia Nessuno mi farà il lavaggio del cervello Adorabile Ma sei nella mia struttura circondato dalla sicurezza E tu? Pensavo avessimo chiuso Eppure ecco di qui Devo arrestarli, signore Certo che devi arrestarli Se no, perché ti avrei fatta bene? Eh, potremmo avere solo un... Scusate Solo un secondo Ah Conosci quel tipo? Possiamo parlarne dopo? Sì, ok, dopo Forse so come fuggire Davvero? Vi fidate di me Mi stiamo davvero concedendo un momento, signore Seguite Ok, venite a prendermi Scappate! Ah! E adesso? Il piano del signor Chai non va oltre, Devo Tornate tutti a rifugio Non ti lasciamo Non devono prendere il passport tour Non discutere Mi distrago Voi scendete Io salgo Non far ti pare troppo fessi Allora ti importa Voglio quel difetto Prendetelo Attivate i laser di sicurezza Grazie da Prendete i laser di sicurezza Eh, l'ho dato anch'io. Carbo. Sono veramente rapido. Ok. Ok. Non mi scappano. No, 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 no. Terribile. Cazzo, non ero mai morto per tutto il gioco. Lo sapevo. Merdo. Voglio fare tutto il gioco senza morire. Devo fare tutto il cazzo di gioco senza morire. Che fallo. Ok. Ok. Oddio. Bene. Benissimo. Ehi Madonna cioè scappa da lì un po' anch'io che che cuore di merda aia ok lo pongo sempre dopo gasto va bene viene io Ah, io ho dovuto farci Oh, bella mossa da rockstar, chai Oh, no, no Oh, no Oh, no Oh, no Non provare a scappare Rubi la mia tecnologia e poi ti definisci una rockstar Per cosa, di preciso? Per averti steso E credi di esserci riuscito? Perché no? Non credo che tu ne sia capace, ragazzo Solo uno su quattro, Corsica Pessimo risultato Già, Corsica, che ti succede? Sa dove sono gli altri, lo farò parlare Mandalo da me quando hai finito Lo butterò nella fornacea io stesso Merda Ho utilizzato un coltivo Ma che polle, mi fa riuscicare da matti Beh, sono felice che sia finita Sei pronto per un'altra disavventura, chai? Vabbè, ok Ci sta che mi faccio riprendere da qui Non è proprio lineare con la trama Però va bene Quindi, nonostante ci abbiano rapiti Siamo a rifugio Ehm, vogliamo Ehi, chai Come sta la nostra rockstar? Chai, che bello vederti È bello vedere che siamo tutti fuori dai guai E sei stato un vero spettacolo Come fai ad avere tutte quelle idee geniali? Vorrei potertelo dire Ma è un segreto che non svelo nemmeno a me stesso Ha assolutamente senso Beh, senti Fai una pausa Stenditi Te lo meriti Ma forse sta sognando, chai Ti conviene provare alcune delle tue nuove mosse Non vorrei che esplodessi o cose simili Aspetta, che? Scherzo Posso preparare una palestra per te Così ti alleni Fammi sapere quando puoi mostrarmi qualcosa di forte Ok Non volevo entrare qua Ehi, chai Come... Dovevi fare il dialogo? Ok Signor chai Avete dimostrato di essere un comandante in trevido Signor chai La vostra è stata una prestazione stupenda Secondo me chai Sta sognando Quindi Ora com'è? Ho capito che invece di agire incautamente perché vi sentite inferiore Ora lo fate per fiducia in voi stesso Siete fonte di ispirazione per la squadra E per i bambini dai cinque anni in su Ho il bollino verde Va bene Dubito che ti servano eroe Ma ho dei bei potenziamenti per te Cioè, quello che hai fatto è stato davvero di ispirazione Cosa posso dire? A volte ispiro anche me stesso Quando siamo saltati dalla finestra Mi hai mostrato come essere forte L'importante è vivere il momento E non pensare alle conseguenze Oh, parole sante Ma ehi Senza di voi non sarei mai arrivato fin qui Se hai bisogno Per te ci sarò sempre Vabbè Vabbè Quando faranno un film Chi mi interpreterà? O ancora meglio Quando faranno un videogioco Chi sarà il mio doppiatore? Anche le rock star hanno bisogno di rilassarsi a volte Ora ha sconfitto il cattivo Che si fa? Credo sia prematuro festeggiare Credo che tu non abbia ancora capito Apprezzo che tu abbia rischiato la vita Ma ora devi svegliarti Geniale Katsop C'hai Sei stato catturato da Corsica Ehi 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 Stai dormendo di nuovo Dove sono? Veniamo al punto Dimmi dove si nasconde il resto della tua squadra Perché non distruggi quelli A per me? Poi ne parliamo Perché Spectra vi ossessiona tanto? Volete sapere cos'è? È un aggiornamento del firmware Come per tutti i nostri robot Sembra che qualcuno non abbia visto il codice O quello che è È un'IA che controlla la mente O quello che è? Già Dimenticavo Sei l'unico capo di partimento Che non ha pieno accesso a Spectra Forse dovresti indagare Sono Troppo stanca adesso Fai un sonnellino e togliti dalla testa questa Spectra Domani avrei l'ultima chance di confessare Togliti dalla testa questa Spectra Vedrai Devo solo uscire Cavolo 8-0-8 non c'è mai Quando... 8-0-8 Contavo su di te Ottimo Voglio dire Per quanto sia sorpresa Il tuo piano ha funzionato Davvero? Questa si chiama reciprocità E ora che facciamo? Cominciamo uscendo da questa cellula Facciamo un po' di rumore Per quanto sia sorpresa ehi dove eravamo rimasti rapporto della missione è un modo per dire chai ha dimenticato il piano signor chai ascoltare fa parte della comunicazione Ehi, faccio del mio meglio, ok? Ci serve la password di Corsica. Ok, bene, bene, continua. E visto che ora sei nella sicurezza... Aspetta, ci sono. Devo trovare Corsica. Vai e basta. Cerca di capire dove è andata. All bad. Bella mossa, bello inizio. Ok. Ah, ce n'è uno lì. Ok. Adesso poi li dovrei fare... Ah, qua sarebbe stato alquanto devastante. Dai. Ottimo. E vedeci. È stato un piacere. Alto? No. Ottimo. Ho perso un po' di vita, ma vabbè. C'è una destabilizzazione della sicurezza nell'ora 1. Io ho altri impegni in questo momento. Mandate le unità di riparazione a risolvere il problema. Ho altri impegni. Vai indagando, immagino. Allora, um, scopgole. Torni. Allora. Ma cosa si sa? Non viene via la cosa. ah 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 maldo ehi! oh laggiù! sei quello che hanno mandato? sistemi il blocco di sicurezza? problema di sicurezza? Hai sentito l'annuncio? Ma perché mandano un soggetto del progetto Armstrong a riparare il sistema? Cosa? Non mi conosci? Sono... C'hai zitto, stai al gioco Sono qui per la... questione della sicurezza? Bene, perché nessuno esce di qui finché non è risolta L'ascensore principale non si muove se i nodi di sicurezza non sono connessi Sì, servono i droni di sicurezza, sicuramente Nodi, amico, non droni Comunque li trovi in tre stanze, qui Direi che è meglio metterci all'opera L'ascensore davanti a te è collegato al lift che porta all'ala di Corsica Abbiamo del lavoro da fare Il primo nodo è dall'altra parte rispetto all'ascensore Devi accenderlo per arrivare agli altri due Lavoro duro Non è il mio forte Va bene Davvero devo farlo io? Non dimenticate, controlleranno la vostra mente, non la nostra Pensa a questo piccoletto Con la password di Corsica saremo a metà dell'opera Restano tre capi di partimento e altre tre password E poi spegniamo Spectra Tre più tre fa sei Insomma, non lo davo per scontato Ok Scritto non pulire su quelli c'è Pulisco i pavimenti Ma i robot sono esseri puliti Anche se non c'è molto da pulire, io pulisco lo stesso Questa parola è portino pace a chi legge? Un bot Ehm, c'è altro per la statua? No Ok Ehm, c'è altro per la statua? Ok 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 Ah andato No, non è morto ancora Benissimo E' stato un piacere Io li stupo e come cazzo c'ho vivo Così Bella Molto bella Nonostante le istruzioni confuse Tutti i laser di sicurezza sono stati installati Anche se non si accendono Deve dire che Siamo stati bravi E' utile Molto molto utile Ehm Ovvio che c'è la sicurezza nella sicurezza Ok Ok, ottimo Ok 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 No No Là Bellissimo Tu sei Tu sei Tu sei ok cosa ha capito ah i hanno l'ho parato me ha detto ok merda no merda non l'ha fatto che non c'è di pubblica dimissione, ovvero lo stesso, ma pure bbs a bene va bene va molto bene quindi questi sono i nodi sembra che non siano sincronizzati posso rimettere a posto il loro flusso di dati con il mio blaster quando si aprono le sfere lancio intermittente ok no ottimo certo che poi andiamo ok cosa ho sbagliato ottimo va bene sono tutti dei vostri festi fai non si può divertire ok ce ne volo un altro ottimo, primo volto, veramente fortissimo bene, bene, devo fare i salti super mega iper alti bene, bene bene bene, buon uomo ammiti, buon uomo, buon rosa sembra che il primo nodo sia attivo, ora dovresti riuscire a raggiungere gli altri due due strade? scegli ne una piccoletto oh è comunque l'uguale, no problema con lui comunque abbia progettato questo posto merita degli insulti ho disposto delle guide verso i nodi, ma cavolo, tutte le piattaforme sembrano uguali bene bene qui no, non ti licenzeranno o forse si, devi dammi attimo ok che aspita, ora posso andare? ma guarda quanto arriva in alto come faccio ad arrivare più lassù? volando naturalmente bene amici non ho ancora sbloccato la possibilità di passare fuoco, ma ci vediamo nella prossima non ho ancora sbloccato la possibilità di passare fuoco, ma ci vediamo la prossima